Uno dei documentari più curiosi del Festival del Film di Roma è dedicato alle donne boliviane che praticano uno sport inconsueto. Vincenzo Mollica. In un paese andino, in Bolivia, le donne per affermare la loro indipendenza decidono di praticare come sport la lotta libera, il wrestling, per tenere testa ai loro mariti. La cosa prende piede e diventa un fenomeno nazionale con tanto di parodia a cartoni animati. La campionessa si chiama Carmen Rosa, che in una delle prime scene, in una discussione pubblica, mette a terra il marito senza possibilità di replica per lui. Motivo del contrasto? La gelosia. Lui le chiede di scegliere tra la famiglia e il ring, lei non vuole rinunciare a nessuna delle due cose. Il racconto di queste lottatrici boliviane anima lo splendido documentario della regista Betty Park, intitolato Mamacias del Ring, che verrà presentato nella sezione extra curata da Mario Sesti al prossimo Festival Internazionale del Film di Roma. La sezione extra si è sempre caratterizzata per la ricerca di materiali cinematografici, originali e curiosi, come appunto Mamacias del Ring, un coloratissimo avvincente documentario che paradossalmente ci fa capire molto del tempo che viviamo. Grazie.